Quando andate a cena al ristorante, a volte può essere difficile fare una scelta. Ti chiedi, che aspetto avrà il piatto? La maggior parte dei ristoranti non ha menù nella tua lingua madre. Ti presentiamo AppVisit. Esegui la scansione del codice QR sul menù con il tuo smartphone e sarai in grado di vedere i piatti sul menù in formato immagine, rendendo più facile l'ordine. Visit rende il tuo menù comprensibile, con immagini e molteplici lingue. Scarica ora Visit nell'App Store o Google Play.